È polemica ad Ardesio tra la Lega Nord e il sindaco Giorgio Fornoni, dopo che la Giunta Comunale ha approvato il 3 febbraio un atto di indirizzo con cui non si autorizza l'installazione di gazebo o strutture simili per propaganda politica su spazi e aree pubbliche in concomitanza con manifestazioni turistiche, culturali, fieristiche e feste patronali. La Lega sostiene che non esiste alcun atto normativo che vieti o impedisca la propaganda politica in tali occasioni. Il sindaco, in un articolo pubblicato oggi dall'Eco di Bergamo, ha replicato che la delibera sarà recepita dal regolamento e un'indicazione precisa che il Comune intende dare. Fornoni sottolinea che nonostante la delibera, la Lega ha messo ugualmente un gazebo in occasione della Fiera delle Capre ed è quindi inadempiente. Hanno fatto i bulli ma ora l'amministrazione prenderà i provvedimenti del caso. A questo proposito abbiamo raccolto il commento del consigliere di minoranza della Lega Nord ad Ardesio, Ivan Caccia. Beh innanzitutto mai ci saremmo aspettati di dover intervenire nell'opinione pubblica per commentare un fatto del genere. Non ce lo saremmo mai aspettato soprattutto da un sindaco che partecipa a Roma alle manifestazioni sulla libertà di stampa contro il governo Berlusconi come ha fatto lo scorso anno il sindaco Fornoni. In secondo luogo vorremmo dire che quello che è stato perpetrato con questa deliberazione di divieto di posizionare gazebo di propaganda elettorale in occasione di certe manifestazioni è un vero e proprio strappo democratico perché in 40 anni di attività amministrativa della vecchia democrazia cristiana ad Ardesio e in 15 dell'amministrazione della Lega Nord tutti i partiti, i movimenti politici, tutti i gruppi e le associazioni libere hanno sempre potuto occupare il solo pubblico senza tanti problemi. Addirittura l'amministrazione leghista ha concesso più volte i locali dell'ex scuole elementari o delle scuole elementari per le primarie al Partito Democratico. Quello quindi che è stato perpetrato è un grave atto di democrazia al contrario cioè democrazia di una giunta che non capisce che la dialettica e lo scambio di opinioni arricchiscono la società e quindi anche il paese di Ardesio. L'opinione di una sola persona, cioè del sindaco o della sua giunta impoveriscono il paese se non è controbilanciata da pareri che possono essere anche espressi da chi non la pensa esattamente come loro.